Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di romanzi, di film, di fumetti dal passato. Oggi parliamo di un fumetto di un autore italiano, Paolo Bacilieri, che ha scritto e disegnato questa biografia su il grande scrittore Emilio Salgari. Stiamo parlando di Sweet Salgari, pubblicato da Coconino Press. E la prima cosa che vi racconto è un aneddoto che riguarda il mio incontro con Paolo Bacilieri. Avvenne qualche anno fa, eravamo a Luca Comics, ospiti della stessa casa editrice Coconino Press, che ha pubblicato questo fumetto qui di cui parliamo oggi e ha pubblicato anche il mio fumetto sulla vita di Cias Bukowski. E quindi praticamente appunto ospiti della mostra lì, avevo avuto modo appunto di parlare con lui un po' tranquillamente, con calma. Cos'era successo? Che lui aveva già rilasciato un po' di interviste su questo libro, su questo fumetto nello specifico, e pubblicato così su vari siti, sul fumetto così. In una di queste interviste lui aveva detto una cosa che mi aveva colpito molto e infatti gliel'ho detto appunto, e gliel'ho detto mentre mi disegnava la dedica che poi tra poco vi faccio vedere. E quindi appunto in questa intervista pubblicata, ad un certo punto, non mi ricordo come rispondendo a chissà quale domanda, Paolo Baccellieri disse che lavorando sul fumetto di Salgari, ad un certo punto, proprio la frase che mi ricordo a memoria era ci lavori, ci pensi un po' molto tempo e ad un certo punto diventi lui. Quindi intendeva che Paolo Baccellieri appunto si è sentito diventare Salgari, quindi si è sentito trasformarsi nel protagonista del suo fumetto. Ecco, questa cosa, ad un certo punto diventi lui, mi ha colpito, diciamo, tanto, tanto, perché ha avuto un'esperienza simile appunto facendo Bukowski e la cosa particolare è che non è tanto un fatto di vivere la vita come lo fa quel personaggio perché in realtà il mio modo di vivere la vita potremmo dire che sulla carta non ha nulla di simile a come viveva Bukowski tanto per dirne una appunto il suo rapporto statissimo con l'alcol e il mio rapporto inesistente con l'alcol tanto che l'unica volta che mi sono ubicato con un bicchiere di vino è un filmato che è anche qui sul canale appunto e quindi appunto non è un fatto di come vivere la vita però è proprio un fatto di come il fumetto funziona e quindi si passa tanto tempo a pensare a un personaggio passano i mesi, gli anni ci si identifica il processo di identificazione è una cosa molto sottile molto delicata molto particolare adesso non è il tema di oggi potrebbe essere un tema di un prossimo video sarebbe bello parlarne con calma ok e quindi mentre dicevo questa cosa al buon bacilliere gli dicevo guarda quella quella tua quella sua quella tua scusate stavo dicendo di recensione quella tua intervista e mi aveva mi aveva sconvolto molto perché appunto dicevi questa cosa qui dicevi che poi diventi lui e mi è sembrato tanto vero e appunto e mentre gli dicevo questa cosa lui mi faceva questa dedica e dove appunto fa dire a Emilio Salgari fratellino che è un come dire una parola affettuosa che mi rivolge Bacilieri qua sopra scritto al biografo di Bukowski di Flavio Luca Comics al biografo di Hank Bukowski Flavio ok allora vi faccio vedere qualche immagine qualche immagine allora praticamente diciamo che lo stile di Bacilieri eccolo qua vi faccio vedere una bella doppia pagina molto esemplificativa qui usa quella che si può quasi definire una sorta di linea chiara comunque molto uso del bianco un disegno molto aperto con molto bianco che lascia molto respirare l'occhio proprio c'è l'aria che scorre in queste pagine e vediamo e vediamo Salgari che cammina nei paesaggi e sta camminando ed è l'ultima passeggiata che fa perché è il giorno che va a suicidarsi quindi c'è questo presente il giorno del suo suicidio sul quale si innestano i ricordi di tutta la sua vita e quindi diciamo Bacilieri racconta la sua vita a scaglioni che sono circa di dieci anni quindi un episodio di quando aveva dieci anni un episodio di quando aveva venti uno di trenta uno di quaranta così con questi grossi salti nel tempo si ha un montaggio cinematograficissimo quindi questi grandi salti che ci danno anche ci restituiscono emotivamente quello che è stato il suo percorso di crescita come scrittore un po' le esperienze che hanno nutrito che hanno nutrito la sua letteratura insomma vi faccio vedere ecco un'altra doppia pagina rappresa dall'episodio di quando era bambino diciamo l'episodio dei dieci anni dove lui e un suo amico prendono questa botte e la usano come barca per per navigare un fiumiciattolo appunto c'è sempre questa grande attenzione alle chiome degli alberi che Bacilieri disegna sontuosamente praticamente praticamente disegnando ogni singola foglia eccolo qui che naviga il Salgari piccolo e con il suo con il suo cagnolino un'immagine che amo molto e quindi Bacilieri fa vedere anche quei pochi momenti avventurosi che ha avuto nella vita ogni episodio si conclude con un'immagine di Salgari al tavolo che scrive e che comincia il suo il suo apprendistato di scrittore ok questa è questa è la struttura un ricordo e un'illustrazione finale muta di Salgari che scrive quindi mi ricordo che Bacilieri diceva che un aspetto che gli piaceva di Salgari era il fatto di essere una sorta di bugiardonato uno che raccontava di essere stato in tanti paesi di aver visitato Mari e Monti di aver viaggiato di essere stato marinaio e invece tutto questo non è vero pare che probabilmente non sia mai uscito dall'Italia ecco e quindi e quindi appunto per Bacilieri Salgari è questo questo bugiardo dico io una sorta di nonno del bugiardone Fellini però appunto per Bacilieri è l'antenato di ogni fumettista perché ogni fumettista deve essere cialtrone ogni fumettista deve esagerare le cose necessariamente faccio vedere un'altra pagina qui appunto la scena è Salgari è un suo amico che doveva fare le illustrazioni per un suo libro e poi comunque ecco visioni di questa loganda con i dettagli il papagallino i marinai ubriachi ecco c'è il rapporto ovviamente con la moglie che era un'attrice di teatro vediamo se riesco di trovare la pagina adesso perché non mi sono assegnato le pagine così da farvi vedere vediamo se la trovo un po' prima praticamente eccola qua praticamente ecco Salgari la conosce la moglie mentre la vede proprio a teatro che recita e poi la va a trovare nei camerini e come dire la così la lusinga la lusinga leggendole leggendole una critica che ha scritto positivamente per lei appunto parlando delle sue doti recitative e così ecco quindi fa vedere anche come si poteva si poteva usare diciamo la scrittura la letteratura persino come come strumento di seduzione è una cosa curiosa quindi quindi allora per inciso si diceva il rapporto con la moglie c'è ad un certo punto questa questa pagina qua ecco una pagina dove Baciglieri riporta integralmente una lettera vera scritta dalla moglie di Salgari dove dove si lamenta delle condizioni di vita che toccano a Salgari appunto per chi non lo sapesse doveva scrivere continuamente cioè finiva un libro e dopo due ore doveva iniziarne un altro perché veniva pagato non so a episodio o comunque a libro diciamo però veniva pagato talmente poco ed era uno che faceva talmente tanti debiti che ha dovuto scrivere continuamente senza staccare mai ecco e quindi appunto secondo la moglie lui era sfruttato dagli editori e c'è questa lettera dove appunto si lamenta per questo stile per questo stile di vita che gli tocca di condurre quindi la regia di Bacillieri è una regia molto attenta molto precisa esattamente come il suo disegno eccolo qui anziano con il rasoio aperto un istante prima di suicidarsi di tagliarsi la gola e il ventre questi dettagli di uccellini in mezzo ai rami che danno sempre un'atmosfera particolare c'è la natura indifferente che guarda le tragedie dell'essere umano sono sensazioni suggerite dal disegno di Bacillieri che comunque si detto super buonariamente si compiace anche tanto del paesaggio quindi per inciso per me Bacillieri è uno tra i due tre disegnatori italiani viventi più capaci più interessanti più è assolutamente un grande maestro così che ho avuto il piacere il divertimento di conoscere abbiamo parlato di fumetto insomma è una è un disegnatore fantastico è una persona appunto molto molto alla mano molto 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 interessante molto piacevole con cui parlare faccio vedere l'ultima pagina così l'ultima pagina è sempre un momento di attesa dentro questo bosco prima del drammatico del drammatico suicidio allora ultima ultima nota questa fu era la prima edizione quindi ora il libro è ristampato ma ha una copertina diversa quindi non sconvolgetevi se trovate appunto un'immagine diversa rispetto a questa qua io ho parlato di del grande bacilieri recensendo altri sui due fumetti che comunque vi linko qui giù nell'info box scatolina delle informazioni proprio all'inizio del canale ho parlato di questo bob84 che praticamente è un noir tra l'italia il giappone recensito appunto qui trovate la recensione e ho parlato anche del suo del suo fumetto più recente un'altra biografia su piero manzoni comunque anche questo qui ve lo linko di sotto e quindi bene e poi molto presto credo di poter parlare ancora di bacilieri che fondamentalmente è uno dei due tre fumettisti viventi italiani che seguo che continuo a seguire sempre con con grande interesse e insomma mi regala sempre delle scusate mi dice che non c'è più memoria regala sempre degli ottimi lavori concludiamo con un'altra immagine così Salgari che porta i figli alla mattina li accompagna al tram il disegno di bacilieri è semplicemente meraviglioso e quindi vi consiglio Sweet Salgari pubblicato da Coconino Press anche se la luce del giorno è ancora assolutamente dolcissima io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte ciccette buonanotte ciccetti a presto